Nella mattinata di ieri la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Agropoli è stata allertata in merito ad una segnalazione riguardante la presenza di una tante a vela incagliato sugli scogli vicino alla baia di Ogliastro nel comune di Castellabate. Sul posto sono state inviate le dipendenti unità navali già impegnate in mare in attività di polizia marittima, più precisamente il battello GCB163 proveniente dal porto di San Marco di Castellabate ed il battello GCA98 proveniente dal porto di Agropoli. Una volta intercettata l'imbarcazione che ha richiesto assistenza si è verificato preliminarmente che le due persone a bordo fossero in buone condizioni di salute e che a causa dell'incaglio non vi fosse pericolo di inquinamento in mare. Dopo aver effettuato il trasbordo in sicurezza sul battello GCA98 di uno dei due occupanti in natante con l'assistenza di un acquascuter utilizzato da un esercente portuale proveniente tra il porto di San Marco di Castellabate, si è provveduto ad effettuare le operazioni di disincaglio dell'unità che è stata successivamente scortata fino in porto per i dovuti accertamenti. La descritta attività si inquadra nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti al corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Il servizio SAR ricerca e soccorso è organizzato in modo tale da assicurare la disponibilità di assetto navale specializzato per tale scopo 24 ore su 24 senza soluzione di continuità con particolare riferimento alla corrente operazione Mare Sicuro 2024 che come ogni anno prevede una intensificazione delle attività in mare al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione. La Guardia Costiera invita tutti i diportisti a prestare la massima attenzione navigando alla dovuta distanza dal litorale nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle vigenti ordinanze finalizzate a tutelare la sicurezza della navigazione e della balneazione.